La prima, quella più esterna. Allora, vediamo se questa ventola funziona. Wow! Gli alzaccia un tipico di ventole, un motore, una bella ventolona roca e tutto. Un legno. Il tutto coadiuvato dall'aiuto del mitico Johnny, mentre il Giglia sta ultimando i lavori sulla sua mostra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.